Seguarci dell'imbombanesimo, benvenuti in questo nuovo episodio della nostra carriera dedicata al Millwall in cui oggi si debutta in Champions League contro il Napoli Dunque oggi sarà un episodio più breve del solito perché sto sempre male ma lo continuo a dire e poi alla fine è stato sempre 40 minuti so Vediamo che piega prende la giornata, abbiamo il Napoli, un po' mi preoccupa dico la verità Per cui vedremo un po', però abbiamo un limbombamente, limbombe, abbiamo la sciarpa sagra sempre a disposizione e siamo pronti, siamo pronti a... perché non avanza il tempo? Si è buggato, ogni volta che premo avanza non succede niente perché... che belle cose che faccio tramite il calendario Ci mancava il bug del calendario, andiamo al 12, si Andiamo al giorno dopo, così magari si sblocca, spero, se si è buggata la carriera piango tanto Ma tipo tantissimo, però... ok Sarà passato? Vediamo un po' Che è successo? Oh, allora Tanto aggiornamento osservatori Dusu Ciao Dusu Sono gente pronta Mamoepa Ciao Rufai E Nuapa Bravo questo Bacaré E Koku Portierone Alto Bello alto 1,88 Teniamo J. Lee Jardim Ciao Faria Ciao Abrao Couto Sarebbe tanta roba, però è troppo scarso Ribeiro Seguiamolo E Abreu Seguiamo pure sto Abreu Che... Non sembra malaccio Bene Allora, che Villalba vuole giocare? Se la sente calda contro Napoli E io ovviamente lo accontenterò Sì, ok Si è sbloccato Meno male Sennò addio carriera Dunque Ragazzi Allora Io direi oggi Tra l'altro mi avete chiesto in parecchi Da alcuni amici obbizi Di farvi vedere un po' Le dinamiche del falchismo Allora Queste sono le impostazioni Generali Niente di trascendentale A dire il vero Tranne sui angoli Il carico massimo di persone E sulle istruzioni personali Io avevo messo un sacco di cose Ma come sempre succede Si è resettato tutto E me ne sono accorto Tipo la settimana scorsa Che era? L'ultima volta Perché Non c'è più niente Avevo perso tempo A vedere lì Su, giù Destra, destra Poi Non è successo ovviamente nulla Allora L'imbombe No beh In Champions Fermi un attimo Famo i seri Allora Koulibaly contro il suo passato A grande richiesta Il ritorno di So Che non ci ha mai giocato Con Koulibaly Io direi che Brunone È serata di Champions Lui è ormai È un veterano E mi porterei Du In panca Al posto di Alves Poi ci portiamo Il toro E ci portiamo Elvis de Memphis In the pelvis Secondo me Potremmo anche Provarla L'imbombe Il debutto Di l'imbombe In Champions League L'imbombamente Champions League E Osservatore No vabbè Tanto qua Avevo fatto anche Un controllo Su giri Che te rigiri Ma È messo sempre Peggio del solido Questo Me l'ero Ronaldo Giailso Rodriguez De Sousa No Non è il campione Che speravo Il cugino De Vulei È uno scarparo Edward Bello Pensavo meglio Sinceramente Viste Visto Il volto Pensavo Almeno Calcisticamente Avremmo Sopperito In qualche modo Non è andata così Vabbè Allora Andiamo al San Paolo E Vediamo Cosa accade Sarà dura Signori Sarà durissima Ma abbiamo Un limbo Un ben più Noi Ragazzi Andiamo a Fai serie Per cortesia Che oggi È partita vera Non si scherza più Bisogna dimostrare Bravo Bruno Subito Subito Bravo Bruno Bruno Da lei roto Allora Mancano i saltatori Storici Ma Ma C'è Bruno Sul primo palo Bruno Limbombe Bravo Limbo Orejana Lavascio Lavascio Cerca uno Spazio Per Irodo No Irodo Non me poi Perde palla Lì Bravo Ampadu Si ma Non Calma In Champions Fiamo i seri Subito Niente Anche perché Se non vinciamo Oggi Il girone Il girone è greve Il girone è veramente greve Quest'anno Se passiamo il girone Si ragiona Bravissimo Hector 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 Troppo Ma troppo Mamma mia Culebo Lì l'ho fatto volare Dalla finestra Vai so Vai so Non te fa sartà so Non te fa sartà so Vai so Non te lo perde so Irodo Bravo Irodo A supporto Possiamo evitare di Bravo so Usciamo palla al piede Usciamo palla Bravo La pace No ragazzi Ma perché Presa alto Napoli Gioca bene Per Napoli Bravissimo Limbo E vabbè Fallo Ah beh Allora Ragazzi Saliamo un po' di ritmo Perché se no Diventa problematico Hector Ertrivela Ne vuole sparare una Maga Yoko Niente Eh vabbè Guarda Bruno Guarda Bruno Ma in mezzo Chi ce sta No ragazzi No Beh prego Che parata ha fatto Ma che palla Gli aveva dato Bruno Qua intesa Tempi di trapani È un'amicizia Che dura Da tempo in memore E attraverso Più linee temporali Per cui Ma lo so Mamma mia so Che giocatore so Guarda Bruno Guarda Bruno Mamma mia Ma che A Bruno Martino della morta La stecca La crossbar challenge Tutte quelle belle cose Che si facevano insieme È tutto finito Già Guarda Lumberg Guarda Lumberg Però vascia Lumberg Stiamo sprecando Tantissimo Poi Stai Stai Già 2-0 Spaccala Attenzione Porca miseria Forza Forza Andiamo in contropiede Andiamo in contropiede Brunone Brunone No Sporcata Malissimo Sporcata Malissimo Vabbè Primo tempo Incoraggiante Dai Primo tempo Incoraggiante Poteva andare Decisamente Peggio Abbiamo tenuto Creando tanto Ma non si concretizza Una cippa Per cui direi Che forse è il caso Di rimbombarlo In panchina E Andiamo di Felipe A tutta fascia Mettiamo Oh Andiamo da toro E il toro E il toro Al San Paolo Su Vediamo se Riusciamo a fare Corna pure lì Brauso Sempre presente C'è Lundberg Che è un po' Sottotono Oggi Ci servono Tre punti Ragazzi Ci servono Tre punti Andiamoli a Prendere Peserebbero Un botto Fuori casa Niente Sul palo Sul palo suo Il portiere Non ne pia una Cioè poi mette pure Una divinità In porta Oggi c'è Ioris E ha fatto Forse la vicinanza Con Drago Cioè ragazzi Ti prego Il portiere Che non copre il palo suo È una cosa Che mi manda Armani Tanto nella vita Reale Quanto nel gioco Immeritato Questo svantaggio Su No Iroto Quanto è falso Sto risultato Guarda il toro Guarda il toro Bravo Fino in fondo Fino in fondo Incrocialo Ci ho messo Troppo Ci ho messo Ci ho messo Troppo Ci ho messo De alto Chi c'è Bagaglio Qui Ma non là Bravo So Di prima Girare e tira Carca miseria Girare e tira No Hector Vai Hector È sempre tu Hector Nostra Fa che cosa Vabbè Devo mettere Elvis Pensavo di poter fare A meno di lui Oggi Ma devo mettere Elvis Eeeh Dai 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 La possiamo fare Volevo che fosse La notte di roto Ma Non si può Bravo Dai 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 Porca miseria Oh E il toro Bravissimo A Lundberg Porca miseria Ci saranno Ci saranno Niente Napoli Gestisce No Prima sconfitta In Champions Ragazzi Piace Veramente Ma Ci ha detto male Ci ha detto male Oggi ci ha detto male Oggi ci ha detto male Eeeh Vabbè Pace Sette tiri a tre Abbiamo perso una zero Ti rimporta uno Quello qui hanno segnato Quanto può essere amaro Sto gioco in alcuni momenti Vabbè Comunque Non è nulla di compromesso Per fortuna Possiamo Possiamo avanzare Serenamente Non C'è tempo di rimediare Concertiamoci sul campionato Adesso Che siamo Ci vede i primi Eeeh Insomma Con ampi Ampi margini Dunque Io direi Il campionato Insistiamo con Con lo schema classico Direi che Vabbè Du Torna Al suo posto So se è comportato bene Devo dire Dango va bene Eeeh Comunque Non ha giocato Dragoschi Abbiamo perso Io non vorrei dire Adesso vediamo Rimettendo Dragoschi Eeeh Altre cose Non le farei Mi porterei Han E Colombo Riconvocato Dopo un po' di stop E ci portiamo Siamo pure di Agana Al posto di Nakagao Vediamo un po' Come va oggi Fermo restando Che poi avremo Eeeh La partita di Coppa Che Mi auguro Sì abbastanza Insomma Fattibile Anche senza Grandi rischi Ci ha tradito Per la prima volta La sciarpa Forza ragazzi Torniamo a fare Ciò che sappiamo fare meglio Segnare a Raffica E con Napoli Abbiamo avuto veramente Troppa Troppa Spazzilla Partita Immeritatamente persa Massa come gioca All Stock Ma che davvero Su Forza Guardalo Trivelalo 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 Se l'è allungata Nel Elvis Tep Elvis Bravo Elvis Fino in fondo Elvis Bravo Elvis No Ma dalla vicino Ma Mamma mia Lundberg Che Pazzia Totale Ma ha funzionato Allora Elvis Bravissimo 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 Era pure Fuori gioco Lundberg Sottoporta Proprio no O Trivela O niente Lui Mamma mia Drago Mamma mia Drago Che parata Bravo Drago Stai trovando Fiducia Ma dove vai Codù In copertura Non ce n'è Per nessuno Tutta la fascia Tutta la fascia Tutta la fascia Guardalo Guarda il toro Guarda il toro Guarda il toro Mortarci tua Perché No Pensavo fosse rigore Per un attimo Allora Du Dove sei Du Fate vedere Du Perché sei così Lontano Dai luoghi Che contano Contropiedone Contropiedone Niente L'Humberg Negli ultimi giorni Mi è un po' Fuori dai nostri Schemi Mamma mia Du Direttamente Dalla Leporigno Soccer School L'accademia Per veri Mediani Bravissimo È buona È buona È buona È buona Ma perché M'abbiocco oggi Davanti alla porta Perché M'abbiocco Davanti alla porta Mi viene l'angoscia Quando mi vedo davanti Il portiere Mi si paralizzano le mani Non so che fa Che ansia Era Era un gol fatto Ho pensato La piazzo Pallonetto Gli entro in porta Ho smarco Ho fatto niente Vabbè Vabbè Classico proprio Bella palla Elvis Perché la La scarciata di Pasinello Ogni volta Tra tutte le Se non vinciamo Sta partita È tutta colpa mia Tutta colpa mia Allora Eh Lundberg Oggi non C'ho intesa Con te Per cui Butto dentro Butto dentro Chi butto dentro Butto dentro Colombo Alzo Felipe Colombo Lo mettiamo A sinistra Tutta fascia E basta Questo è Questo è Forza ragazzi Su Si parte Con il secondo Tempo Non possiamo Non vince Sta partita Dopo tutte le Occasioni Che ho avuto Bravo Die du Bravo die du Perché Colombo Reintegrato Dopo un lungo Stop Niente Eeeh Eeeh Martínez Mio Bravo Bella palla È buona Niente Era complicato Pialo in faccia Era veramente Complicato Pialo in faccia Elvis Fatte fare Fai rigore Alvis Qualcuno Che se fa Vedè Maga Io Coo Du El Al fallo De mano Se conta Più Vabbè Mamma mia Dio Tu cassa Vado Colombo Apri tutto Bravissimo Avanti 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 Mamma mia Come se N'è andato Via Felipe Felipe Niente Guardalo No No Niente Le due Chance avute Le ho sprecate Non se ne stanno Presentando altre Amarissima Così Amarissima Veramente Amarissima Basta Lo faccio Lo faccio Serve lui Serve lui Serve lui Il panettiere di Millwall E metto pure i roto Perché Felipe è cotto Mi serve gente Veramente Che Possa essere esplosiva In questi ultimi 20 minuti Famogli entra Famogli entra Qualcuno faccia un fallo Bravo Drago Forza 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 Elvis Ultima palla Del toro Elvis 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 È buona Niente Vabbè 18 minuti Du Sul primo palo È tua 1-0 Ma perché Non c'è va lui Ma perché Dai 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 Può crozzare Prova calcio Nooo Ma chi ha presa Sì vabbè Eh vabbè E allora E allora vale tutto E allora vale tutto Ma che Ha detto Ha detto pure Ho presa Ma perché Pensavo fosse Passa Partita maledetta Partita maledetta Partita maledetta Ok Ma che Ti prego Nooo Non è possibile Già c'avevo il titolo Per i giornali La rinascita di Colombo Niente Vu No Non entra Non entra Oggi non entra Oggi non entra Oggi non entra Non entra Non entra Oggi non entra Sta palla Non entrerà mai Non entrerà mai Vu L'hai visto Niente 5 minuti Praticamente Un'azione Vu Massa vu Che stop Fio mio Che stop C tua No Non ce la fa Non ce la fa No 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 Vabbè La beffa Porca Non manca molto Da giocare Gli amassati Devono darsi Una mossa Se vogliono Trovare Il pareggio Vabbè Non so Non so che dire Tutto bellissimo Il cross Della sinistra Ha dosato La perfezione E ovviamente La conclusa Ce l'ha pure presa Nell'unico modo In cui il portiere Non la poteva prendere Con l'imbalzo Se non è sfortuna Questa Mamma mia L'episodio Della morte Questo Proprio Io Partite dominate Questa è con Napoli Torniamo a casa Con zero punti E zero col fatti Avù Mortarci Che cadavere Che è diventato Niente Il peggio Del peggio Del peggio Del peggio Del peggio Sette tiri a due Due tiri in porta Un gol E precisione di tiri Cento per cento Non so che cosa dire Un episodio veramente amaro Veramente Veramente amaro Tutto pensavo Tutto pensavo Tranne che Due partite così Oggi Tutto Tutto pensavo Amarissimo Amarissimo Il terrore nero Oggi Veramente Il terrore nero Abbiamo il Brentford In FA Cup Avremo La prossima volta Liverpool E se ce la faccio Locomotive Ripeto Dipende da come Mi si mette la cola Io più Di mezz'oretta Non recco Questi giorni Per cui Faremo Brentford E Liverpool La prossima volta Sperando appunto Che le cose vadano bene Io sarei pure Tentato di simularla Questa Per magari Andare un po' più veloci Però Non lo so Siamo fuori casa Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so Sono Sono dubbioso Sono Sono fortemente Ma simuliamola adesso Ma che ce frega Perché non l'ho messo Non l'ho messo Ugo Ioris Perché Perché l'ho fatto Vabbè Col bravo Martires Finalmente Un golletto Dai Ribam 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 De Pai Su rigore Meno ma Dai 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 Elvis Niente Benarama Martinez Sul 3 a 2 Oh ma può essere così complicato Battere la squadra Delle quarta divisione Su Oh bene Ho rischiato tantissimo Il giocatore che è in me ha voluto tentare la sorte e mi è andata bene Non lo faremo mai più Quindi 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 Allora tanto accettiamo Questo dice sempre che no Il signor no Ci abbiamo in squadra La prossima volta Allora a questo punto avremo Liverpool I locomotive Per cui Un altro affetto Ma quanti Che c'avrai Abel Che c'hai la La sorella carina La La mamma La mamma bona come Tilly Vabbè Allora Con sta sconfitta che non ci voleva Siamo secondi A 13 punti A 1 dall'arsenal La classifica Marcatori Invece vede De Pai primo Ci mancherebbe pure Elbis e Pelbis Però dunque Poi avremo Il Liverpool E il locomotive Io non posso fare minimamente Turnover la prossima volta Per cui ci terremo Questo tipo di schema E L'unica cosa Metterei Felipe qua E un Villalba Tutta fascia Con Liverpool La difesa Torna Coulibaly Assolutamente E Ampadu Martin E Coulibaly In porta Giocherà Ioriz Io credo Che questo sia Lo schema Più adatto Per andare A affrontare Il Liverpool La prossima volta Perché ragazzi Fatemi sapere Cosa ne pensate Noi ci vediamo Domani Per un nuovo episodio In cui appunto Avremo Liverpool E Locomotive Sperando Che vada bene Perché se no Sono cavoli Amarissimi Per un nuovo episodio